salve ragazzi bentornati da 8opone sono qua su warioland 4 che è uno dei giochi della mia infanzia ed è una grossa nostalgia allora ho già fatto alcuni livelli come potete vedere ecco ho fatto l'intro e ho fatto questi tre e adesso andiamo qua siamo subito al gioco vai schiaccia la rana e via che si parte sta registrando non vorrei si interrompesse allora qua che cosa bisogna fare di preciso allora ragazzi funziona così in ogni livello noi dobbiamo tornare indietro qui non c'è assolutamente niente perfetto oh no 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 salta e veramente sto coso è un rage game raga aia ma come ha fatto no bisogna di forza farlo saltando si ma pure te che non salti fio mio vabbè senti vamoci ammazzare e cambiamo livello raga proviamo a fare un altro livello perché qua non mi vince proprio andiamo nel nel passaggio topazio no passaggio zaffiro dai andiamo qui andiamo vediamo cosa bisogna fare ah questa è la zona con i fantasmi vediamo qui sotto vediamo cosa c'è c'è l'acqua c'è un mare di cuori in compensa no tu resta buono lo sei ci hai provato amico andiamo di qua che cosa volevi fare tu saliamo di qua saliamo di qua nooo maledetto mi hai zombificato dobbiamo farci zombificare da sto tizio eh guarda che bel fantasmino che c'è qua sembra anche piuttosto arrabbiato aspetta capovolgiamo sti tizi così aio ecco non vi preoccupate rimetto tutto com'era e ciao ci vediamo sali no qua devo bugarlo e forse con questo no non è con questo no sali 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 ah forse ho capito eh dovevo ruzzolare e finisco qui sopra aia che volevi fare tu bene ora mi ha trasformato in pipistrello devo andare qui entrare nella porta no ma è il punto di partenza non ci posso credere forse è una zona nuova invece no sembra una zona nuova si però che cacchio non si può continuare così eh belle allora secondo me qua c'è qualcosa e noi lo scopriremo subito no senti facciamoci strada a capocciate ah pezzo del cristallo ma che vuole sto fantasma brutto brutto da me eh spiaccicato pure questo what the quello lo lasciamo incastrato lì e ah boom anche qua mi sa che devo rotolare ah avrei potuto romperlo oh oh no vabbè guarda che robetta e ce ne torniamo di qua arrivederci signori rotolo rotola 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 il grande rotolatore ah anche qui c'era qualcosa lo vedi che è forza di rotolare qualcosa si trova oh avete rotto però eh lasciatevelo di ah ho capito qua mi devo far solidificare per scendere giù oh quindi vabbè dai sputami addosso sputami addosso sputami addosso dai bello sputami niente eh c'hai una mira pure te vai scendiamo qui sotto prendiamo questo coso possiamo andare di qua no no manca qualcosa non so perché va bene non si può fare ciao raga possiamo farci rap comunque qui va modificato qualcosa e penso di averlo capito aspetta 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 mi dispiace ma non mi zombifichi stavolta perfetto ecco cosa bisognava fare aspetta forse ho capito cosa bisogna fare qui siiii ok l'ho capito devo rotolare e rimbalzare ah ragazzi rotolare qua era una cosa bellissima no qua non devo saltare rotoliamo ahia ah raga non riesco neanche a rotolare qua cioè no sbagliato ah non mi salta raga aspettate eh e qua forse bisogna eh impostare meglio sti cosi er che cacchiarola così non si può fa' eh input no non è così eh no no layout modifica oh ecco famoli più grandi sti cosi perfetto chiudi oh ora non abbiamo scuse e vabbè sto gioco mi odia raga però in compenso possiamo sfondare di qua almeno prenderci questo e andarcene sali 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 adesso andiamo a sfondare pure di qua se riesco a rotolare bene però olè beh non c'è niente e vabbè andiamocene via come se fosse successo nulla la zona la zona ragazzi sembra la stessa ma in realtà è diversa senti io mi sono rotto di sti cosi del cacchio eh ciao 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 ma che bisogna fare di preciso qui ah forte ora questi prenderanno a carica e si suicideranno geniale ma qui cosa c'è? no era soltanto un piccolo bonus vabbè arrivederci senti basta eh testate ma qui cosa c'è? non c'è assolutamente niente bene occhio alle correnti piano piano ok ecco un altro pezzo del cristallo qui non c'è niente mi spiace fantasma non posso starti appresso oh guarda cosa c'è qui e va bene ragazzi via che si comincia mannaggia devo andarmene subito tanto il fantasma è un po' incavolato eh via 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 corri Mario corri Wario corri no non di qua più fermati aia Aia Sti ricetti Pipistrellizzami Pipistrellizzami Pipistrellami Vai 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 Sali 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 Ok Bene l'abbiamo completato via Giù Forza forza Andiamo a sbrigarci Aia Opla Ma dov'è il portale qui Ok vai Risucchiami E niente ragazzi Questa era Wario Land 4 Come potete vedere Noi dobbiamo completare Questi cristalli Che ci faranno accedere Al Come si chiama La piramide E vabbè Purtroppo non abbiamo preso la chiave Quindi non posso sbloccare il portale Vabbè Va bene ragazzi Alla prossima 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 Alla prossima